Strategia Digitale. Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online. E business online. A cura di Giulio Gaudiano. Ben trovati da Giulio Gaudiano e benvenuti in una nuova puntata di Strategia Digitale. Il GDPR ha portato una grande novità, un grande scompiglio nelle vite di chi faceva email marketing o anche di chi semplicemente utilizzava le newsletter come modo di inviare dei contenuti a una propria lista di contatti e di coltivare, far crescere la propria autorevolezza grazie al valore di questi contenuti. Che cos'è il GDPR? Magari l'hai sentito, non ci sei mai andato a fondo, l'hai ignorato, hai fatto finta che non esistesse mettendo la testa sotto la sabbia come uno struzzo? O forse già la conosci e come Igor, che è un ascoltatore di Strategia Digitale, ti chiedi ma come faccio a dimostrare che ho avuto il consenso per inviare la newsletter o per fare email marketing dalle persone che si sono iscritte alla mia lista? Questa è la domanda che ho ricevuto da Igor e per rispondere a questa domanda ho dovuto chiamare in ballo Roberto Tarsia. L'avete già conosciuto più volte, Roberto? Sapete che è rivenditore italiano di ActiveCampaign, del software per fare email marketing e marketing automation che tra l'altro è anche sponsor di Strategia Digitale e sponsorizza questo episodio che stai ascoltando. Allora, come ActiveCampaign porta messaggi mail nelle caselle di centinaia di migliaia di milioni di persone attraverso un software che fa email marketing e marketing automation che quindi invia in maniera totalmente automatica sequenze di email a persone che ci hanno dato il permesso di inviargli comunicazioni e ci hanno dato la loro email, così Roberto Tarsia diciamo che ha una certa esperienza sul campo e ci saprà consigliare qual è un modo concreto di raccogliere il consenso da parte di chi vuole iscriversi alla nostra newsletter o vuole ricevere i nostri messaggi di email marketing e poter dimostrare in caso di controversie qual è il consenso che abbiamo ricevuto qual è la privacy policy che le persone al momento dell'iscrizione alla nostra lista hanno accettato. È una cosa, è un argomento bello spinoso perché ha aspetti legali, aspetti commerciali, aspetti relativi alla relazione che secondo me deve essere sana, trasparente, assolutamente cristallinea con i nostri potenziali clienti e i nostri clienti e speriamo che Roberto ci aiuti a diramare questa nebbia che avvolge il GDPR nella sua attuazione pratica nella vita digitale di tutti i giorni. E allora bando alle ciance perché è arrivato il momento di ascoltare la domanda di Igor e scoprire insieme come dimostrare il consenso per newsletter e email marketing secondo il GDPR. Ciao Giulio, ascolta, ti faccio una domanda e spero possa essere una domanda non troppo stupida, non so se c'è qualcosa di ovvio che mi sta sfuggendo ma io te la faccio comunque. Riguarda il GDPR, mi allaccio un po' a qualche argomento che hai trattato anche tu circa le automazioni, email marketing eccetera. Quindi io vorrei parlare di GDPR ma soprattutto della conservazione dei consensi. in modo particolare conosci un modo per tracciare i consensi per magari immagazzinarli da qualche parte e renderli consultabili e visibili perché nel mio caso per esempio io uso come software di automazione MailerLite e sì hai la possibilità di andare sulla scheda subscriber e vedere se c'è stato diciamo marketing permission con accetta o non accetta. Però alla fine sono anche schede modificabili e quindi tu puoi metterci quello che ti pare. Quindi non so se c'è un modo di risalire la storia in modo più attendibile e soprattutto perché poi sai con GDPR eccetera le conseguenze potrebbero essere anche importanti nel momento in cui magari hai qualche problematica devi andare a risalire a due o tre mail per cui tu sei sicuro di aver avuto il permesso poi magari non lo trovi. Quindi ecco vorrei avere da te gentilmente quando puoi qualche esempio, qualche suggerimento per fare la tracciabilità e conservazione di questi consensi. Grazie ancora tanto. Ciao Giulio. Carissimo Igor prima di tutto grazie della domanda. non è affatto una domanda sciocca infatti in realtà è sciocco non porsi questa domanda cioè non interrogarsi su come dare attuazione pratica a una normativa che in fondo ci vincola tutti cioè una normativa accettata e diffusa a livello europeo. Prima di tutto voglio dirti che oggi ho evocato una delle persone più esperte che conosco in quanto all'email marketing perché se dobbiamo capire come posso dimostrare di avere il consenso accettato dal GDPR per mandare newsletter e fare email marketing chi può aiutarmi se non Roberto Tarzia che è il rivenditore italiano di ActiveCampaign. Ciao Roberto ben trovato. Ciao Giulio ho evocato stile Pokémon e vediamo se riesco a dare una mano o un'idea aiutare questo utente che ha problemi con la GDPR come praticamente chiunque abbia a che fare con strategie di email marketing o approcci comunque al marketing in generale. Ecco ormai tu qua sei di casa su Strategia Digitale quindi ti ringrazio nuovamente per aver dato questa tua disponibilità. Facciamo un attimo un passo indietro scusami Roberto ma voglio mettere a proprio agio anche tutti gli ascoltatori che non sanno che cos'è GDPR, GDPR, ma che è sta roba. Allora che cos'è GDPR? GDPR è un acronimo che sta per General Data Protection Regulation cioè il regolamento generale per la protezione dei dati. Quindi questo regolamento è stato pubblicato, entrato in vigore nell'aprile 2016 e aveva lo scopo, ha lo scopo, di risolvere un problema. Il problema è quello del furto delle email e dell'abuso sulle nostre email. Tutti noi dall'altra parte come utenti abbiamo vissuto l'abuso delle nostre email, in realtà anche del nostro numero di telefono, quella è un'altra storia. Cioè ci vediamo ogni giorno recapitare delle email che non ci interessano da parte di persone che non conosciamo o di società che non conosciamo e che affollano la nostra casella email ma soprattutto ci annoiano a non finire. Cioè perdiamo tempo prezioso della nostra vita a dire ma che è sta cosa? Apro l'email, la leggo. Ma chi l'ha mai conosciuto questo? Ma che mi interessa di questa cosa? Prendiamo e cancelliamo l'email. Questo disagio che abbiamo quando viene proiettato su numeri grossi, cioè quando lo cominciamo a fare una, due, dieci, venti, trenta volte al giorno, alla settimana, al mese, diventa una grande rottura, diventa di fatto un danno che viene fatto a noi da ignoti. Allora l'Unione Europea giustamente ha detto ragazzi qua non è che potete col fatto solo di possedere l'indirizzo email di qualcun altro rompergli l'anima. Quel qualcun altro vi deve dare il permesso di scrivergli. Se non vi sta dando il permesso allora non potete scrivergli. Allora come si fa ad avere questo permesso? Molto semplice. Quando una persona vi dà l'indirizzo email voi dovete dirle esattamente a chi lo sta dando. Cioè non è che dice io sto dando l'indirizzo email sul sito web di Giulio e poi ti scrive Alfredo. No, io ho dato a Giulio l'indirizzo email, non l'ho dato ad Alfredo. Quindi voglio che mi scriva Giulio. Allora dobbiamo dire chi prende quell'indirizzo email, come lo conserva. Cioè guarda mi stai dando l'indirizzo email ma io non lo scrivo sul muro del bagno pubblico all'autogrill. No, lo tengo custodito all'interno della mia rubrica. Quindi come lo custodisco? E soprattutto che cosa ci voglio fare con questi indirizzi email? Cioè mi stai dando l'indirizzo così ti mando le foto che abbiamo scattato insieme mentre stavamo in vacanza. Oppure mi mandi, mi dai l'indirizzo così ti mando delle informazioni o dei documenti che mi hai richiesto. Non, vabbè tu intanto dammi l'indirizzo poi vedo io cosa farci, vedo io cosa mandarti e vedo io a chi darlo, con chi condividerlo. Queste informazioni devono essere tutte esplicitate dalla cosiddetta privacy policy che è un documento che tutti i siti web dovrebbero avere dove spiegano come si occupano della privacy delle persone che entrano in contatto con il sito web e deve essere accettato da chi ti dà l'indirizzo email. Ora la domanda che fa Igor è molto intelligente perché di fatto è molto difficile dimostrare che il signor Mario ha accettato la mia privacy policy perché se quella privacy policy è all'interno di una pagina di mia proprietà e io posso cambiarla quando mi pare, io posso dire il signor Mario ha cliccato su accetto la privacy policy, magari non l'ha neanche letta, ma il signor Mario dice ma vabbè nella privacy policy non c'era indicato che mi avresti mandato le foto delle vacanze e ora mi stai mandando le foto delle vacanze, a me questa cosa non mi sta bene, stai violando la GDPR. Allora Roberto, tu di questa GDPR, di questo GDPR, che cosa ne pensi? Penso che la motivazione che ha mosso a realizzare tutta questa cosa sia nobile, ovvero la possibilità degli utenti di avere il controllo dei propri dati e la possibilità di richiedere indietro tra virgolette i propri dati dalle aziende, cioè con questa legge l'utente può andare dal proprietario di un sito internet che ha raccolto i suoi dati o da una qualsiasi azienda e dirgli ok io voglio sapere tutti i dati che tu hai su di me e voglio poterli scaricare tutti e obbligarti a cancellarli dai tuoi database e questo è una motivazione nobile, nel senso che è una cosa che assolutamente era da fare perché i dati stanno un po' sfuggendo di mano dall'avvento di Google, ci sono brutti anni perché gli utenti capissero effettivamente il valore dei propri dati, ancora non ne hanno coscienza più di tanto se non quelli più esperti, però si sta veramente abusando dell'utilizzo, sia dalle chiamate telefoniche che indesiderate, vendita di dati e quant'altro. Da un lato purtroppo la realizzazione tecnica è da un lato molto complessa, nel senso che non è facile gestire questa cosa tecnicamente, dall'altra è stato fatto un po' anche un lavoro che complica parecchio la vita ai gestori e che non sempre è così efficace, è un po' come quando hanno iniziato a rompere le scatole obbligando tutti i siti internet a mettere l'accettazione dei cookie perché se no l'utente così deve entrare sul sito e se non vuole accettare i cookie deve essere libero di uscire senza che essi vengano scaricati, ma in verità non esiste un utente al mondo che è entrato su un sito internet sia uscito perché non voleva accettare i cookie, quindi è una cosa che è stata fatta ma nessuno si è mai posto il problema di che cosa siano i cookie, di se accettarli o meno, è una cosa che non è servita assolutamente a nulla se non a complicare la vita agli utenti che si vedono questi banner da dover chiudere ma che se no non si pongono mai la problematica anche perché altrimenti non navigano più perché ad oggi qualsiasi sito internet all'interno dei cookie da accettare, quindi o uno non naviga in internet o altrimenti questa cosa dei cookie è risultata inutile. Per quanto riguarda GDPR è complicato riuscire a provare che l'utente ha rilasciato il consenso è ancora più complicato per l'utente dire che non l'ha lasciato, questo perché come si fa a verificare che l'utente abbia lasciato meno il consenso, viene creato un campo che l'utente le flegga, quindi la classica V che si mette per l'accettazione dei moduli e quando un utente si logga all'interno del sito internet, quindi opt-in diciamo sulla landing page o qualsiasi pagina per essere inserito all'interno dell'autoresponder, quando si logga viene memorizzata la sua mail, la V del consenso ad utilizzare la sua mail a fini pubblicitari, per comunicazioni e quant'altro e poi viene memorizzato l'indirizzo IP della connessione che l'utente sta utilizzando e questo dato dovrebbe servire per poter recuperare l'utente, ovvero al momento che l'utente richiede informazioni su come mai è stato registrato, perché magari non se lo ricorda o quant'altro, tu dovresti poterli fornire tutti i suoi dati, incluso l'indirizzo IP che ha utilizzato al momento della connessione. L'unico problema è che questo indirizzo IP non è univoco, non è che ognuno di noi ha un indirizzo IP dedicato, ma l'indirizzo IP cambia ogni volta che ci connettiamo a internet con una DSL casalinga e ogni volta che ci colleghiamo da una DSL che non è la nostra, quindi se sono in vacanza, se sono dal cellulare, se sono dalla connessione di un amico e di conseguenza questo dato di per sé risulta quasi completamente inutile, anche perché nella maggior parte dei casi non è neanche in grado di riuscire a localizzare geograficamente dove l'utente ha fatto quell'azione, se non passando da procedure legali lunghissime che in Italia sarebbero improponibili e che richiederebbero anni e anni, diciamo che per l'iscrizione alla newsletter forse è un po' eccessivo, una volta che c'è il bottone per disiscriversi, forse è una cosa un po' più sensata, quindi le problematiche sono la provare che l'utente ha lasciato il suo consenso e che il flag della procedura dell'attivazione per il marketing che è obbligatorio, cioè l'utente deve inserirlo se vuole ricevere comunicazioni di marketing, lo può inserire anche il gestore del sito internet stesso dopo che l'utente ha fatto l'iscrizione, cioè l'utente si iscrive, il gestore mette l'avviso però il marketing prova tu a provare che il gestore non è stato l'utente o anche l'utente che magari lo mette se lo dimentica, come fa l'utente a provare che lui non l'aveva messo e che è stato messo dopo, insomma ci sono tutta una serie di problematiche abbastanza complesse e contorte, forse eccessive per l'iscrizione a una newsletter, in questo caso specifico. Sì perché poi per gli attori che sono in gioco alla fine abbiamo da una parte il legislatore che vuole che siano rispettati certi criteri previsti dal GDPR, dall'altra parte quelli che le aziende che vogliono comunicare attraverso l'email, che vogliono più email possibile, cioè vorrebbero poter in maniera semplice comunicare, inviare messaggi via email alle persone che si sono iscritte. Dall'altra parte ci sono gli utenti che, se è vero, che non amano gli abusi sui loro indirizzi email, dall'altra parte non amano neanche dover vedere questi testi infiniti, accettare, non so se ce l'hai pure tu questa sensazione di inquietudine quando vedi queste privacy-povisi che le devi accettare per proseguire e in qualche modo dici a te stesso non ce la posso fare a leggerle, accetto e fate di me quel che volete perché non penso onestamente che tutti noi leggiamo tutte le privacy policy che dobbiamo accettare per poter utilizzare il web. Quindi evidentemente se vogliamo puntare alla sostanza potremmo pensare la GDPR compliance, cioè il fatto di essere regolare rispetto alla GDPR, come una attitudine, come un obiettivo, il nostro obiettivo è fare in modo che ci sia un allineamento tra il desiderio della persona di ricevere messaggi da parte nostra e la nostra possibilità di comunicare con la persona tramite i messaggi perché alla fine stringi stringi, è tutta la la storia, cioè è che Mario quando riceve un'email da parte mia dica ah che bello è arrivata l'email di Giulio e non dica ma chi è questo Giulio o non dica uffa che pizza Giulio mi scrive ancora perché vuole vendermi lo stuzzicadenti. Quindi finché c'è un allineamento tra quello che la persona vuole, capisce e vuole perché magari vorrebbe Mario avere la pubblicità dello stuzzicadenti io in realtà invece che stuzzicadenti vendo spazzolini e allora lui dice scusa ma da quando in qua ho chiesto di ricevere la pubblicità degli spazzolini? Da quando in qua ho chiesto di ricevere email da parte di Giulio? Quindi deve capire e accettare. Questi sono i due punti caldi. Allora Roberto tu naturalmente come rivenditore italiano di ActiveCampaign questo software lo conosci benissimo. Su ActiveCampaign come potrei fare io a fare in modo che il signor Mario che mi dà il suo indirizzo email possa essere cosciente che mi ha dato il suo indirizzo email, lui o chi per lui, che io ho il suo indirizzo email, essere cosciente che gli invierò delle informazioni, dei messaggi via mail ma soprattutto come posso fare io a mantenere una traccia del fatto che il signor Mario il tal giorno alla tal ora ha accettato le determinate privacy policy a prescindere dal fatto che io poi li abbia cambiate nel tempo. Allora un metodo che tecnicamente può funzionare è quello di utilizzare il double opt-in ovvero utilizzare un form all'interno del nostro sito, della nostra pagina in cui viene richiesto all'utente di accettare la privacy policy e al cui viene dato la scelta all'utente di flaggare la possibilità di essere contattato per motivazioni di marketing, tracciamento e quant'altro. Nel momento in cui l'utente arriva sul mio sito internet, rilascia questi consensi, inserisce la sua mail e fa l'iscrizione, ActiveCampaign, ma si può fare con un qualsiasi autoresponder o un minimo evoluto, manda prima di considerare l'utente valido, quindi iscriverlo alle nostre liste e rendere quella mail utilizzabile, la tiene memorizzata, la tiene come disattivata e manda una mail all'utente con scritto caro utente hai richiesto te l'iscrizione a questo sito con questo indirizzo mail, magari si può inserire anche direttamente nell'opt-in la privacy policy in maniera che nel double opt-in, quindi nella mail che arriva in modo che l'utente abbia la traccia della privacy policy che ha accettato e che di conseguenza anche se cambia nel tempo quella rimane tracciata e alla fine l'utente si ritrova un bottone con scritto sì accetto, sono stato io a iscrivermi e ho capito la privacy policy e la accetto, oppure no, non sono stato io e non mi interessa in questo caso, quindi quando l'utente va ad accettare, ActiveCampaign lo rileva e rende quella mail utilizzabile e da quel momento in poi si potrà utilizzare quella mail a finalità di marketing e questo è un modo che tecnicamente è corretto per riuscire a utilizzare la mail in maniera legale. Questo è interessante, ma scusami, volevo capire una cosa, tu quindi mi stai dicendo il signor Mario viene sul mio sito web, si iscrive, quindi mi mette il suo indirizzo email, si iscrive alla possibilità di ricevere messaggi di posta da parte mia, io attraverso ActiveCampaign in maniera automatica gli mando un messaggio con la privacy policy all'interno del messaggio e poi gli dico, quel tuo indirizzo email si è scritto vuoi accettare o non accettare, quindi gli metto due pulsanti in modo che lui possa dire sì va bene l'accetto, mandatemi il messaggio, oppure no non l'accetto e quindi il suo indirizzo potrà essere cancellato rimarrà congelato. Voglio capire due cose, numero uno, come faccio a vedere esattamente associate all'indirizzo web del signor Mario qual è la privacy policy che ha accettato in modo poi da poterlo dimostrare e se posso vedere anche il giorno e l'ora in cui l'ha fatto e numero due, voglio capire se il signor Mario non apre l'email, come faccio, cioè io l'email gliel'ho mandata, come faccio a dire il signor Mario ha capito e accettato questa privacy policy e dimostrarlo? In questo caso specifico essendo che il signor Mario arriva sull'opt-in e seleziona l'accettazione della privacy policy, però essendoci attivo il double opt-in una volta che il signor Mario ha accettato, gli arriva una mail in cui si chiede conferma e la privacy policy in questo caso è all'interno della mail stessa. Quindi cosa succede nel momento in cui il signor Mario accetta? È tutto memorizzato all'interno della piattaforma ActiveCampaign o chi per essa. Quindi su ActiveCampaign si può andare a vedere lo storico dell'utente, si può vedere tutte le mail che l'utente ha ricevuto, quindi con l'anteprima della mail e questo non è modificabile, quindi è a norma di legge e si può vedere anche cosa l'utente ha fatto, quindi in questo caso viene memorizzato il click dell'utente sull'accettazione della privacy policy e questo è memorizzato e non modificabile, quindi questo ci garantisce che l'utente è stato lui a cliccare o quantomeno qualcuno che ha letto la sua casella mail, però diciamo che in questo caso lo teniamo valido e siamo sicuri che sia l'utente poi ad aver accettato questa privacy policy. Quindi tutto sta all'interno della scheda utente dentro ActiveCampaign che di fatto è anche una zona di CRM, di gestione dei contatti, quindi tu hai tutta la lista delle persone, persona per persona puoi vedere i messaggi che ha ricevuto, la privacy policy che ha accettato, se ha accettato o se non ha accettato, se ha aperto l'email e se ha cliccato sull'accettazione. Ma volevo capire una cosa e allora se mettiamo, a me a volte capita di iscrivermi a un sito web, ricevo l'email di conferma e poi quell'email la cestino direttamente e neanche la apro. Come posso ottenere di non perdere il contatto se quel contatto non accetta subito alla prima botta la privacy policy che gli invio? Se la privacy policy è inserita nella prima mail di opt-in, deve essere lui accettarla. Se non l'accetta subito, il contatto rimane memorizzato in ActiveCampaign ma è ritenuto un contatto nullo, un contatto non utilizzabile e di conseguenza a meno che tu non vai a attivarlo manualmente, questo contatto non può essere usato. Utilizzando questo metodo sul primo opt-in, non c'è modo poi di andare a modificare questa cosa. Mentre usando degli opt-in successivi, ovvero il primo opt-in che l'utente va sull'iscrizione e gli richiede la conferma di accettazione della privacy policy, però l'utente non la clicca perché non l'ha ricevuto per altri motivi, allora in quel caso si può andare a creare un mini funnel, se vogliamo chiamarlo così una sequenza mail in cui si ricorda all'utente che la sua mail non sarà utilizzabile a meno che tu non potrai comunicargli quello che ha richiesto, a meno che lui non accetti la privacy policy. In questo caso specifico, gli si possono mandare due o tre mail di follow up, quindi di promemoria, se così vogliamo dirlo. Poi se dopo la terza o quarta mail l'utente non ha mai risposto, a questo punto lo si gestina anche perché potrebbe essere un indirizzo mail non valido, magari l'utente ha sbagliato a scrivere la mail e noi continuiamo a scrivere una mail che non esiste o magari esiste mai di qualcun altro. E quindi queste sono le soluzioni così al volo che si possono usare per avere tutto in regola. Poi sono convinto che ci voglia del buon senso, nel senso se ti mando le mail, l'hai richiesta a te, io ti sto scrivendo come tu mi hai chiesto, sto usando le mail in maniera corretta, ti do sempre la possibilità da ogni mail, e questo è obbligatorio per legge da sempre, di disiscriverti, quindi tu devi avere sempre in ogni momento la possibilità di disiscriverti dalla mail. Se tutto è fatto bene a un certo punto penso che anche il buon senso possa prevalere. Beh Roberto ti ringrazio molto di questa soluzione che ci hai offerto, spero che Igor ne possa trarre un utile insegnamento. Ti saluto, alla prossima, grazie mille. Siamo arrivati alla fine di questa puntata, ragazzi vi è venuta voglia di toccare con mano, provare ActiveCampaign, verificare quello che ci ha insegnato Roberto Tarsia nella sua esperienza su come dimostrare di aver ricevuto il consenso e quindi essere completamente a posto, dormire sonni tranquilli nei confronti del GDPR, non c'è niente di più facile, perché non solo andando su umediaweb.com slash ActiveCampaign o comunque cliccando sullo stesso link nel note dell'episodio potrai provare gratuitamente ActiveCampaign, ma anche se dopo la prova vuoi comprarlo, vuoi abbonarti ad ActiveCampaign per utilizzarlo, per fare marketing automation, funnel marketing, email marketing, mandare alle newsletter e chi più ne ha più ne metta, potrai avere uno sconto che ActiveCampaign, essendo sponsor di Strategia Digitale, riserva agli ascoltatori di questo podcast. Come fare, qual è il coupon? Il coupon è Strategia Digitale, più semplice di così si muore, lo trovi comunque nelle note dell'episodio in modo da non sbagliarti e poter con un clic arrivare su ActiveCampaign, provarlo e poi quando deciderai di acquistare l'abbonamento, come ho fatto io stesso, potrai avere un bello sconto da portare a casa o da condividere con i tuoi amici. Per questo episodio è tutto, quindi io ringrazio Igor per la sua domanda, perché Igor dovete sapere che è un finanziatore di Strategia Digitale, è uno di quelli che ogni mese con un contributo economico, ma soprattutto come ha fatto lui, con delle domande, dei dubbi, dei consigli, delle visioni, dei temi, contribuisce a portare valore attraverso questo podcast a migliaia, decine di migliaia di persone che lo ascoltano. Grazie di cuore Igor per la tua domanda, hai fatto benissimo a farla, non è stato per niente stupida come hai visto, anzi molto molto importante e sostanziosa e grazie ad altri finanziatori, ne ringrazio un po' così in ordine sparso a nome di tutti gli altri finanziatori, quindi è come se attraverso i nomi che sto per nominare vi nominassi a uno a uno, perché il vostro contributo è importantissimo. Ringrazio Emanuele Aliberti, Cesare Ciaffaglione, Maurizio De Lucchi, Rosario Rizzo, Francesco Maria Cursale, Dario Pepe, Marzia Tomasina, Antonino Cotroneo, Giancarlo Spanu, Andrea Sciraolo, Denise Calzolari, Sara Veltri, Flavio Figorilli, Giovanni Di Leo, Stefano Lagravinese, Croce Di Michele, Antonio Pesacane, Filippo, Davide Zerbini, Cristian Manganelli, Vittorio Neri, Mauro Gadaleta, Iderio Sabatini, Alessandro e Francesca, Lynn Vlog, Luigi Di Blasio, ragazzi, tutti quanti, vi ringrazio, vi ringraziare veramente uno a uno, se non foste centinaia, per cui mezzo podcast dovrebbe essere solo i ringraziamenti a voi, perché lo sapete, poi lo sapete, non c'è bisogno che lo dico, sapete che il vostro contributo è essenziale per questo podcast, perché insieme si dice, no, se vuoi andare veloce vai da solo, se vuoi andare lontano vai con altri e voi siete i miei altri. Grazie di cuore per finanziare Strategia Digitale e far parte di questo progetto e grazie a Odra Bertolone, la coautrice del podcast, al nostro fonico Costanza Mineo e a Radiospeaker.it per il sound design. Ragazzi, grazie mille e alla prossima! Strategia Digitale Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online e business online a cura di Giulio Gaudiano